Buonasera, buonasera a voi. Allora, quella degli infermieri è una materia che conosco assai bene, per una ragione molto semplice. Chi mi segue da molto tempo avrà appreso che la mia consorte è un'infermiera e quindi ovviamente so di che cosa sto parlando, so tutte le difficoltà che ha questa categoria, ma so soprattutto come è stata bistrattata negli anni questa categoria. Vi do una chicca. A questa categoria, che è da anni che non vengono dati aumenti, non è stato adeguato neppure lo stipendio all'inflazione, ok? Che sarebbe stato il minimo, che sarebbe il minimo. Tra l'altro nel mondo degli infermieri ci sono due mondi. Quelli che lavorano soprattutto per il pubblico, ma anche per il privato, che sono assunti, che sono dei dipendenti di ospedali, di enti ospedalieri e così via, e altri che hanno scelto la libera professione, che lavorano a partita IVA. Le due categorie non fanno riferimento allo stesso ente previdenziale. Chi è regolarmente assunto fa riferimento all'Inps e invece i liberi professionisti, gli infermieri, i medici, i liberi professionisti ad Enpapi. Già vi do un dato. Quelli che fanno riferimento ad Inps, a parità di contributi, a parità di contributi, vanno in pensione con una pensione superiore. E già questo assolutamente è una totale ingiustizia. Ma a parte questo, a parte questo, mediamente un infermiere guadagna uno stipendio da fame perché è incredibile che un laureato, uno che ha dedicato 18, 17, 16, quegli anni che sono di studio per diventare infermieri, infermiere, porti a casa udite udite 1500 euro al mese. Voi capite che è assolutamente inaccettabile. Ma vogliamo appunto parlare di quelli che lavorano nella libera professione con partita IVA che non hanno alcun diritto, non hanno diritti, non hanno malattia, non hanno ferie, non hanno tredicesima, non hanno tfr, non hanno nulla. Guadagnano mediamente dalle 20 alle 23 alle 25 euro all'ora. Che se vi fate i calcoli, insomma uno a mala pena arriva netti, netti mensili dai 2000 ai 2005. Tenendo conto appunto che non ha ferie, malattia, non ha nulla, non ha tfr, non ha nulla. Veramente scandaloso. Ora stasera il video però più che parlarvi di questo scandalo del quale già in passato abbiamo parlato, parliamo di Bertolaso che è il responsabile del welfare della Lombardia che ha deciso di assumere per il momento poi si vedrà qualcosa come migliaia di infermieri stranieri, stranieri che andrà a prendere a Cuba, andrà a prendere in Ucraina, andrà a prendere in questi paesi. Sappiamo perfettamente che questi sono soggetti che si accontenteranno anzi per loro 1500 euro sembrerà di essere una cifra incredibile. Poi dopo un po' di anni o mesi si accorgono che c'è qualcosa che non quadra perché non arrivano a fine mese ma purtroppo se ne accorgono dopo perché prima riescono in qualche modo a infinocchiarli e in qualche modo ad attirarli nel tranello. Ma quello che è scandaloso da parte di Bertolaso sono le ragioni che lo portano a decidere tutto questo. Udite udite, lui oggi ha dichiarato ha dichiarato che non è solo, che anzi che non è un problema economico, c'è anche l'aspetto economico ma soprattutto non c'è più la vocazione e questo si evince dal fatto che i giovani non partecipano ai concorsi. Ma brutto ignorante, i giovani non partecipano ai concorsi perché non sono stupidi e sono stufi di farsi prendere in giro da voi, da voi politici perché hanno capito che vanno a fare la fame, che hanno studiato anni e anni, hanno fatto l'università per portarsi a casa uno stipendio da fame. E l'unica ragione caro Bertolaso è invece proprio l'aspetto economico, altro che non c'è più vocazione perché vorrei vedere che è così stupido da dedicare così tanti anni per prendere uno stipendio da fame. Quindi uno che deve scegliere che facoltà universitaria frequentare, state sicuri che non troveremo più nessuno, a meno che uno sia idiota ma veramente idiota che faccia infermieristica. Ecco questa è la situazione e noi abbiamo uno come Bertolaso, no? Come Bertolaso che ancora di più umilia la categoria, poi ha promesso e non è la prima volta che promettono aumenti, staremo a vedere, finora nulla, nulla di questo si è visto, neppure l'adeguamento all'inflazione. Questi sono veramente dei personaggi squallidi che andrebbero appresi a calci nel sedere e mandati a casa. Purtroppo in Italia però tutti quanti se ne fregano, a meno che uno non venga toccato personalmente, cosa che io non ho mai fatto. Questo è un caso, no? Voglio dire, perché appunto mia moglie è un'infermiera, ma l'avrei fatto alla stessa maniera se fossero stati coinvolti qualsiasi altri lavoratori di altre categorie. Veramente vergognoso da parte di questi politici. Con questo vi saluto, vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani.